Una nuova via sul resegone per ricordare Chiara Papini, la studentessa lecchese travolta e uccisa da un'auto pirata. È stata solo una delle tante iniziative portate avanti dagli amici e dalla famiglia. Rimasto chiuso per sbaglio in camera da solo in un appartamento al quinto piano, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvare un bimbo di soli due anni. Guardare oltre i confini della città per cogliere al meglio le opportunità del PNRR. La civica appella per Lecco riapre il dibattito sulla grande Lecco con una mozione in consiglio comunale. Nuova ambulanza per i volontari del soccorso di Calozio Corte che quest'anno festeggia mezzo secolo di attività. Più di 50 le persone che hanno deciso di entrare nelle fila dell'associazione. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV edizione di Lecco. Una nuova via sul resegone, il ricordo di Chiara Papini, la studentessa lecchese travolta e uccisa da un'auto pirata. Soltanto una delle tante iniziative portate avanti dalla famiglia e dagli amici per ricordare la giovane perché da una tragedia possa nascere il bene. Quando da una tragedia terribile può nascere il bene. Quando il sorriso speciale di una ragazza di 19 anni, travolta e uccisa da un'auto pirata, rivive sul volto di tanti giovani come lei e li spinge a fare qualcosa di grande e importante per ricordarla. Tommaso, Guido, Alessio, Nicola, Luca hanno aperto una nuova via sulla montagna di casa, il Resegone, uno sperone di roccia alto 40 metri nella zona della Cornasella. Quattro volte in quattro anni diversi, aggiungendo ogni volta un pezzetto fino alla cima e alla dedica finale. Torre Chiara, il muro verticale, la salita, l'arrivo, la conquista. Abbiamo deciso di concludere questa avventura dedicando questa piccola torre a chi ora non c'è più, ma che ci ha toccato il cuore. Chiara Papini, scrivono su Facebook. Chiara dalla risata contagiosa, morta in una calda serata di maggio, travolta sulle strisce pedonali, mentre tornava a casa, dopo alcune ore trascorse con gli amici, uscita per la prima volta, proprio quella sera, dopo mesi di lockdown. È trascorso un anno e mezzo dalla morte di Chiara Papini, a soli 19 anni. Lecco non dimentica, chi ha avuto la fortuna di conoscerla non la scorderà mai. Sento un affetto intorno a me, che cresce di giorno in giorno, dice mamma Maria Frigerio. Il 29 ottobre Chiara avrebbe compiuto 21 anni. Gli amici hanno organizzato una festa di compleanno, mi hanno invitata, erano tantissimi, mi hanno scritto una lettera di 18 pagine. Qualcuno ha composto anche una canzone per lei. E poi c'è l'intitolazione della nuova via tra le guglie all'ombra del resegone. Spero di poter andare presto a vederla. In nome di Chiara, mamma Maria, papà Gianfranco e il fratello Fabio stanno aiutando quattro fratellini orfani di Addis Abeba. Perché uno dei sogni di Chiara era quello di vivere un'esperienza missionaria in Africa, conclude Maria. Abbiamo ancora tante cose da fare. Mi piacerebbe per esempio organizzare un evento canoro per i ragazzi. Sono quelli che in questi due anni hanno sofferto di più. Rimasto chiuso per sbaglio in camera da solo per liberare il bimbo di due anni sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Per fortuna solo tanto spavento per quanto accaduto oggi in un'abitazione di via Carossa a Lecco. Il piccolo è rimasto bloccato per errore da solo nella camera dell'appartamento al quinto piano di un condominio. Un equipaggio del comando dei vigili del fuoco di Lecco è intervenuto sul posto con un'autopompa, un'autoscala, raggiungendo così la camera del balcone per poi entrare e rassicurare il piccolo di due anni tratto in salvo in pochi minuti. E siamo alla politica. Guardare oltre i confini della città per cogliere al meglio le opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle Olimpiadi. Di 2026 la Civica Appello per Lecco rilancia il tema della Grande Lecco presentando una mozione in Consiglio Comunale. Un passo avanti oltre i ponti verso una Grande Lecco. La lista Civica Appello per Lecco ha protocollato una mozione per chiedere alla Giunta Gattinoni di avviare un confronto con i comuni confinanti al capoluogo per individuare un percorso di decentramento amministrativo e sfruttare al meglio le opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza oltre che delle Olimpiadi. E' sempre più impellente per Lecco, dichiara Corlado Valsecchi, capogruppo in Consiglio Comunale della Civica, la necessità di affrontare le sfide della politica e dell'amministrazione in ottica sovracomunale. La discussione per la realizzazione della nuova corsiera entrata dalla città per il ponte Manzoni ha reso evidente il bisogno di una programmazione infrastrutturale urbanistica che guardi l'intero bacino territoriale e non ai singoli interessi dei singoli comuni. Caso simbolo, già preso in esame da Lanci, è quello del comune di Morterone, il paese più piccolo d'Italia. L'ipotesi di fondere il paese nel capoluogo, dati alla mano, garantirebbe da subito ogni anno 2 milioni di euro per 10 anni, risorse destinate poi ad aumentare alla luce anche dei nuovi orientamenti del governo. Decentrare non significa, a nostro giudizio, allontanare, dichiarava Secchi, bensì ampliare e razionalizzare. Significa immaginare una rete cittadina ampia, non vincolata da anacronistiche e divisioni amministrative e burocratiche che sono state già nei fatti cancellate dall'urbanistica, dalla mobilità sociale, dalla realtà quotidiana nella quale i cittadini del bacino lecchese vivono e si riconoscono. Un percorso già avviato dunque nei fatti, ma che è bene portare avanti un passo alla volta. La mozione, che sarà discussa e votata alla prima occasione utile dal Consiglio Comunale, impegna l'amministrazione a valutare l'opportunità di decentrare i servizi e solo successivamente di coinvolgere le diverse comunità con termini per intraprendere, se possibile, un iter comune e più virtuoso. Restiamo in politica. Si è delineata la terza componente in vista delle elezioni provinciali. Numerosi amministratori del territorio hanno aderito all'appello lanciato dai sindaci di Valmadrera, Antonio Rusconi e Garlate Beppe Conti. A prendere le distanze, però, il sindaco di Introbio, Adriano Airoldi, inizialmente indicato tra i firmatari, con una nota del vice Riccardo Benedetti, Airoldi smentisce di aver aderito ad alcun appello programmatico. Hashtag sicurezza. Abbiamo fatto il punto sulla microcriminalità nella città di Lecco, ieri nella prima puntata di Hashtag, il programma di attualità a cura di Barbara Gerosa. Oltre al questore, tra gli altri, sono intervenuti il prefetto di Lecco, il titolare di un bar in Viale Turati. Scaduta inizio novembre l'ordinanza anti-alcol di Viale Turati, Piazza Cappuccini, introdotta allo scopo di disincentivare le risse. Abbiamo fatto il punto sulla sicurezza in città ieri sera a Hashtag, nuovo programma di attualità della nostra giornalista Barbara Gerosa. C'è un problema di microcriminalità e in particolare di microspaccio. A delineare la situazione abbiamo chiamato il questore di Lecco, Alfredo D'Agostino e Francesco Mori, titolare di un bar in Viale Turati e presidente dell'Aurora San Francesco, che ha denunciato il problema dello spaccio vicino all'oratorio. Lo spazio dell'oratorio lasciato libero, con libero accesso a tutti, era diventato un problema, diciamo anche microspaccio. Sono intervenuti anche il prefetto di Lecco, l'amministrazione comunale e l'opposizione. Come mai ci troviamo qui? Qua siamo davanti alla chiesa di San Nicolò, alla Basilica, dove purtroppo in questo terrazzino dove siamo adesso, spesso e volentieri è capitato quest'estate che ci fossero ragazzi dediti allo spaccio. Gli episodi appunto a cui abbiamo fatto riferimento sono residuali. Indubbiamente esistono, su di essi abbiamo dovuto concentrare la nostra attenzione, dando sfogo in particolar modo ad un'attività di prevenzione maggiormente attenta alle istanze della gente e anche ai luoghi di naturale aggregazione giovanile. Siamo passati da quelle in alcune fasi, in alcuni momenti importanti e anche più di attenzione a quella del divieto, di somministrazione degli alcolici da asporto, a quella di un maggior presidio sul territorio che comunque continua, sia in capo alla polizia locale che alle forze dell'ordine, all'attenzione in ambito anche sociale. Tutti episodi che vanno inquadrato in questa, che è la cosiddetta diciamo febbre da dopo lockdown, noi così l'abbiamo catalogata in comitato, però mi sento ecco di tranquillizzare i cittadini di Lecco, Lecco non è il far west. Il prossimo appuntamento con Hashtag sarà martedì prossimo alle 21.30, tema Green Pass nelle aziende. Vi ricordo che se vi siete persi la puntata potete vederla anche sulla nostra web tv. Un cinquantenne è stato arrestato nella serata di ieri in un centro commerciale a Lecco. L'uomo, visibilmente alterato, ha iniziato a infastidire i clienti sul posto, sono intervenuti gli agenti della questura di Lecco. L'uomo ha inveito anche contro gli agenti, molestandoli, per questo è stato identificato e arrestato, processato per direttissima, ora si trova in carcere. Fiore alza l'asticella e punta a conquistare la clientela miranese. Nell'ex quartiere generale della criminalità organizzata, non più solo pizza, ma anche cucina gourmet. Le radici però restano nel sociale. Fiore guarda oltre. Nato come pizzeria della legalità, in un luogo che fu simbolo della criminalità organizzata, il locale lecchese cerca nuovo slancio. Le radici restano nel sociale, certo, la gestione della cooperativa La Fabbrica di Olinda. Lo sguardo è però rivolto verso una ristorazione nuova, di alto livello, per mantenere elevato l'interesse degli affezionati, che finite le limitazioni dovute alla pandemia, sono tornati ad affollare il locale, ma soprattutto per attrarre una clientela diversa, proveniente anche dall'area milanese. Chiaramente Fiore, dopo la chiusura di 25 anni, dopo che è stato arrestato Cocco Trovato, proprio qui che aveva la sua sede, il suo bunker, il suo appartamentino sotto, quando abbiamo riaperto con una TS, quindi la cooperativa di Olinda, assieme a Auser e Arci, abbiamo cercato di dare un altro senso, un'altra energia a questo luogo tipico di Lecco, dove c'è un aspetto sociale, quindi l'inserimento di lavoratori svantaggiati, che dopo un periodo possono ottenere un contratto indeterminato, e dove l'aspetto sociale, etico e culturale fa parte proprio di questo luogo. Quali sono ora i progetti per i prossimi mesi? Dunque, per noi è importante presentare al cliente sempre delle cose nuove, abbiamo un cuoco che è molto bravo, che ha molta fantasia e creatività, e sappiamo che se offriamo dei piatti stimolanti sia per quanto riguarda le pizze, ma per quanto riguarda anche la cucina e i dessert, adesso stiamo appena partiti col menù autunnale. Abbiamo messo in primo piano le verdure autunnali, quindi abbiamo cercato di dare spazio a tutti i colori che l'autunno ci offre, quindi mettere in primo piano le verdure, tante verdure con un, come si vuol dire, con un twist di gusto e di colore, che rimangono sempre piatti sobri, semplici, però che succedono ad un certo interesse. Lutto nel mondo del commercio lecchese, è morto a 89 anni Claudio Vaghi, presidente di 50 e più FENACOM, associazione che raggruppa i pensionati associati a Confcommercio dal 1994 al 2014. Originario di Oggiono, aveva ideato nel 2008 il premio Mangioni, manifestazione tuttora promossa dall'associazione di categoria. I volontari sono instancabili e insostituibili i mezzi no nuova ambulanza per i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Più di 50 persone hanno deciso di entrare nelle fila dell'associazione che quest'anno ha festeggiato il mezzo secolo di attività. Taglio del nastro sabato a Calolzio per la nuova ambulanza dei volontari del soccorso. L'associazione che quest'anno ha festeggiato il 50esimo anniversario di fondazione ora può contare su un nuovo mezzo di soccorso. Grazie all'alone instancabile opera, i volontari garantiscono assistenza 24 ore su 24 tutto l'anno al territorio del caloziese. Nella festa del 50esimo avevo anticipato che i volontari si erano impegnati per l'acquisto di un'ambulanza e di un mezzo per i secondari. Il primo mezzo è arrivato per cui questa è l'ambulanza è un'ambulanza che dedichiamo ai nostri volontari per le migliaia di ore che impegnano tutti gli anni per portare avanti questa attività ma anche aver rivolto a un ringraziamento alla popolazione perché questo è stato possibile grazie al loro sostegno che sono sempre presenti e ci aiutano in ogni momento quando abbiamo bisogno. Poi verso Natale si spera arriverà anche il secondo mezzo come avevo detto e ci ritroveremo per magari lo scambio degli auguri di Natale e poter benedire anche quello. Durante il festeggiamento del 50esimo gli avevamo comunicato che era iniziato il corso devo dire che siamo soddisfatti all'un momento stanno partecipando 54 persone a questo corso e per cui diciamo che per quest'anno meglio non potevo andare. Presenti alla cerimonia le autorità cittadine e rappresentanti di altre associazioni del territorio. Le Cultura affronta e approfondisce il delicato tema delle discriminazioni sociali in due serate 12 e 26 novembre in Sala Ticozzi con lo storico della mentalità Francesco Filippi e la giornalista Gabriella Iacomella. Prima gli italiani dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. La discriminazione si annida anche in insospettabili quanto diffusi slogan e modi di dire che alimentano uno dei tanti volti della discriminazione. Le Cultura nell'ambito del progetto Confini, Frontiere, Identità in collaborazione con il Centro Orientamento Educativo e con il sostegno di Fondazione Cariplo porta all'ecco due personaggi di eccezione per approfondire i temi della marginalità sia sociale sia territoriale. Nella prima serata interverrà Francesco Filippi che presenterà il suo volume Prima gli italiani sì, ma quali edito quest'anno dalla terza. Formatore presso l'Associazione di Promozione Sociale Deina realtà che organizza viaggi di memoria e percorsi formativi in tutta Italia Filippi collabora alla stesura di manuali e percorsi educativi sui temi del rapporto tra memoria e presente ed è autore di importanti pubblicazioni. In questa occasione compirà un viaggio in un'identità quella italiana frammentata in un paese diviso tra nord e sud est e ovest città e campagna un paese in cui i momenti più divisivi della vita pubblica sembrano essere proprio le feste nazionali. Il secondo appuntamento organizzato in collaborazione con Telefono Donna ospiterà Gabriella Iacomella giornalista e formatrice che nel 2016 ha fondato Fact Checkers Policy Leaders Fellow presso la School of Transnational Government dell'Istituto Universitario Europeo Iacomella è anche parte del team del Center for Media Pluralism and Media Freedom e Alecco presenta il suo libro 12 parole contro gli stereotipi di genere edito nel 2019 da Feltrinelli una riflessione sulla parità di genere affrontata a partire dagli stereotipi quotidianamente diffusi sui mezzi di comunicazione Gli appuntamenti da segnare sul calendario sono venerdì 12 e venerdì 26 novembre alle 21 in Sala Ticozzi Un percorso sui sentieri della Transumanza da Avero fino a Pianazzola in Val Chiavenna torna questa sera una nuova puntata di itinerari in onda alle 20.20 alle 21.20 e replica sabato alle 19.50 vediamo una breve anticipazione in Sala Ticozzi qui a Pianazzola c'è anche il signor Oreste in autunno qua ci sono tante castagne sì tante ce ne è quest'anno tantissime è belle anche una volta era un alimento molto importante per voi una volta tutte le castagne rienavano tutti castagne e vine si metteva anche a lesso e sono le basche oppure si facevano seccare le facevate seccare si pestavano e poi dopo vanno scernute bene tutti e poi dopo si vende e si è pronti e mangia non perdetevi dunque questa bella gita di Alessandro e Donato e questo era il nostro ultimo servizio ma vi ricordo che potete rivedere tutte le nostre notizie sul sito teleunica.com e seguirci anche sui nostri canali social vi auguro una buona serata grazie a tutti